buon lunedì lunedì 11 dicembre 706 benvenuti a good morning milano buongiorno a tutti buongiorno a tutti e buon inizio di settimana buon lunedì a tutti eh sì buon inizio di settimana la nuova settimana che inizia eh 50 50 forse mi sa settimana 50 credo 52 sono forse anche 49 49ers come San Francisco buongiorno come stai Lorenzo Masieri tutto normale tutto rego tutto rego raga come direbbe Walter Keroubi tutto rego raga tutto rego tutto bene dopo devi spiegare una cosa che ho visto sui social che hai fatto un po il polpablo hai visto sì 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 ce l'ho qui ce l'ho qui tra le liste delle cose da fare stamattina anche io ce l'ho sognato oggi tra l'altro oggi lunedì come al solito non ci sono problemi di rassegna stampa anzi tra navigli verdi e viva gli italiani fascisti eccetera ce n'è da parlare se ce n'è io vi parlerò anche della Walk of Fame di Milano io non la conoscevo e poi sono andato a vedere l'albero di Gucci sì sì mi ha colpito un'altra cosa che dopo vi dico va bene comunque non il milione ricordiamo il milione sì quello va bene è stato ho scoperto che però c'è una polemica anche a Torino perché il concerto di fine anno di Marco Mengoni costerà un milione madonna sì quello che però diceva anche il sindaco sala che non vuole fare il il concerto che costava un milione di euro sì ma è solo di Mengoni beh sì il concerto totale costa un milione non credo che gli diamo un milione a Mengoni è quello però va bene l'infrastruttura chissà quanto gli danno invece c'è irama così che arriva con la prossima canzone insieme a Ercomi cinque gocce cinque gocce irama Ercomi alle sette dieci minuti questo è good morning Milano ma soprattutto qui siamo su crystal radio e Milano all news 3317853555 puntualissimo Alberto buongiorno Fabio e Lorenzo e buona settimana a tutti gli ascoltatori di crystal radio io butto via la sveglia ho deciso basta chiedo Alberto di farmi da sveglia da mattina perché è sempre puntuale molto di più del della mia sveglia quindi io così Alberto ti fai questo servizio la mattina ti fai dare cinque volte quelli che devi richiami cinque volte al mese io avevo un amico con il sonno abbastanza pesante diciamo che molto spesso chiedeva a me se ero già sveglio quindi pensa te a che ora doveva svegliarsi di chiamarlo ogni tanto se doveva fare qualcosa di particolare pensa a te perché sennò le sveglia non le sentiva ha saputo pensa in chi mani riponeva il suo destino nelle tue ma a parte che andava a giro un po' chiedeva in giro va beh ragazzi 11 dicembre 11 dicembre 11 dicembre va beh innanzitutto inizia il quarto mese di di good morning milano è vero l'undici è il nostro compilmese il nostro anniversario dove non mi porti fuori a cena stasera sto cercando una battuta ma non la trovo al volo è troppo presto 7 e 11 è troppo presto per cercare una battuta 7 e 11 dell'undici 7 e 11 dell'undici esatto e stai dicendo fabio è stato weekend lungo stato weekend lungo sì 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 oggettivamente oggettivamente tre giorni al posto di due per noi perché siamo andati in diretta per sei ore sì ci sono ben quattro per altra persona e ieri mattina io mi sveglio e vedo sull'instagram tu che sei in giro a spiegarci cos'è dov'è la walk of fame Il largo corsia dei servi Che non sapevo neanche quasi dove fosse Allora lo sapevo Però è complicato perché in realtà è tipo una piazzetta Che è un largo effettivamente Quindi ha quattro lati Come ogni piazzetta effettivamente Ma in mezzo c'è una struttura C'è pure una mezza chiesetta lì vicino Non si capisce In una galleria piccolina Che unisce Corso Europa A largo corsia dei servi E pensa che in una piazzetta così piccola Ce ne sono tipo tre di gallerie che la uniscono A vie laterali A livelli di Mitrofe In una di quelle gallerie Mi sembra Corso Europa 5 se non mi ricordo male C'è La Walk of Fame Milano Perché? Credo Ovviamente io ho poche notizie Date male, non vado neanche a approfondire più di tanto Però credo che lì ci fosse la sede Di TV Sorrisi e Canzoni Adesso ho visto che c'è la sede della Universal Nel palazzo lì Ci sono poche parole Delle quadrotti Di piastrellone Con su le impronte Delle mani Più delle volte Anche se Van Damme c'è anche il pugno Ha messo anche il pugno giustamente Di tutte quelle star che sono passate da Milano Tra il 92 e il 2004 Mi sembra di aver visto che erano quelle le date Per Per i telegatti O meglio C'è anche il simbolo del telegatto Quindi credo siano legati Al telegatto Ci sono tantissimi Perché c'è La primissima è Lorella Cuccarini e Marco Columbo Le prime due che ci sono Evidentemente saranno stati i conduttori Di quella azione Sì, molto veramente sì Le prime due sono le loro Il 92 inizia appunto E poi dopo ci sono tante altre C'è Angela Lansbury C'è la signora in giallo C'è anche Michael Jackson Michael Jackson non l'ho visto Ma può darsi Però non l'ho visto Può essere Può essere Ma l'ho visto Perché poi alcuni non capiscono cosa c'è scritto Perché c'è la firma Ma non Quindi vai un po' a traduzione Però dopo È un posto comunque Un po' dimenticato Infatti è un peccato in realtà Che sia lì così Con la pesce di Martino Musica leggerissima Se questa mattina appunto Ci state ascoltando Una musica leggerissima E non solo Perché poi avremo dei pezzoni dopo Di Crystal Radio Beh sappiate che Se ci ascoltate in FM Dalle 8 Potrebbe esserci Qualche problemino Sulla frequenza Tra le 8 e Più o meno Non dice O tra le 8 e le 10 Più o meno Non penso Cosa del genere In realtà molto veloce Dovrebbe essere La situa Una breve interruzione Sì Dovrebbe essere Abbastanza breve e veloce La situa Però potrebbe essere Che intorno alle 8 Se ci ascoltate dall FM Magari avete qualche problema Quindi spostatevi Spostatevi Sullo streaming Sull'app Così almeno lì Invece ci sentite Tranquillamente Senza problemi Without any problem Siamo qua Che vi raccontiamo Un po' la giornata Quindi Se volete andare Alla Walk of Fame Fatevi un giro Andate In l'arco Così di stervi Secondo me è molto bello Perché ci sono veramente Dei nomi Sandra e Raimondo Ma poi ci sono Tante donne Dello spettacolo Che sono passate Rachel Welsh Ad esempio Un'attrice Degli anni 90 Ma no È proprio bello È interessante Peccato che sia lasciato lì Dimenticato da Dio Degli uomini Dal video Per carità Bello Ma molto triste Tristissimo 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 No triste Se vede il retro Di un parrucchiere Ci sono le insegne Di un parrucchiere Ma sul lato Sul retro Neanche sul davanti C'è un de or Di un bar Che praticamente Ne calpesta un paio Quasi anche Quasi Ma non è colpa del bar Sicuramente Si potrebbe valorizzare E non è colpa Neanche di tutti Non so come dire Lì il problema È che la cosa Si è stata fatta Poi gli anni Sono passati È rimasta lì Peccato perché Andrebbe valorizzata Colpa di nessuno Però magari adesso Se qualcuno Magari Lo prendono Adesso Non credo Riuscivano Un milione di euro A sollevare Una piastrella O lo si sposta Potrebbe essere un'idea Ad esempio Spostare 20 piastrelle Saranno Trentina Saranno Forse qualcuno in più Però nel senso Oh ragazzi Con 5 mila euro Si fa un bagno Non ci vorrà molta Tirare su 4 piastrelle Oppure Che vengano messi Due led Una targa Qualcosa Non lo so Che venga data Un'allustrata Al pavimento Sì Cioè Se comunque A due passi dal Duomo A tre passi Da Piazza Beccaria Corso Vittorio Emanuele Sicuramente avrebbe Il suo interesse Qualora fosse Valorizzata meglio Sì Sto pensando Ad esempio Corso Europa L'hanno appena rifatto tutto Ci voleva tanto A spostare quelle piastrelle Di là Cioè Le mettevi al posto Non so Dove c'è la fronte M4 Fai tra un ascensore E l'altro Una bella linea E poi ti dico di più Secondo me Sarebbe anche da tornare A pensare Di fare una cosa del genere Con altri Cioè Trovi altri Cioè Lì c'è la Universal Che faccia la Universal Non so Oppure Cioè Il comune Gli ambrogini d'oro Ne so Cioè Fai fare ambrogini O ti inventi qualcosa O andiamo tutte le mattine A mettere il nostro in ponte Tutti gli ospiti di Good Morning Milano Tutti gli ospiti di Good Morning Milano Andiamo a metterli in ponte A proposito Di tutti i milanesi Sì Tutti i milanesi Poi arriviamo alle cose serie Sì Intanto Stamattina Tutti titolavano Più ieri sera Tutti titolavano Che Alla chiusura Del Dei dieci giorni Della fiera d'artigianato Oltre un milione Di visitatori Un milione Mille Milioni Un milione Sono tanti Sono tanti Beh Dipende quante volte L'hanno contato a te però Perché tu già fai Un centomila Li fai tu Il coso è singolo Come si dice Il QR code è nominativo E quindi è È come Quando fai le visualizzazioni Su YouTube Per account Non è per Quindi Un milione di QR code Sono passati Un milione di QR code E quindi Niente Da sottolineare Però Visto che comunque Cosa si muove Un milione In buona parte milanese Nel stesso momento In cui comunque C'erano i mercatini In Duomo Il Mico Che anche lì C'è una roba Anche al Mico Se mi sbaglio male Che però Che costa Costa il Mico Costa l'ingresso Sì Però dentro Poi ti regalano tutto Ah no Il pizza in faccia Ti regalano Ok no 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 Scherzi a parte Questa roba qua Dei mercatini Dei Christmas Village Per carità Curato benissimo Ho visto il video Del nostro amico Paul Pablo Sì Bellissimo dentro Però Io Mi metto nei panni Di una famiglia Sì non mi sembra Che poi non ci fosse gente Ebbene Mi sa che era L'inaugurazione No no Tipo sono passato L'altro ieri Così c'era un bel po' Di gente che andava e veniva Però Leggendo i commenti Appunto sotto Il video di Paul Pablo Ho letto Ma io ho due figli Vado con mio marito Devo spendere 69 euro Cosa ne so Cosa ne so Cosa voglia Cioè Quello è un tema Eh sì Poi però Ci sono i mercati In Duomo Giusto Ci sono poi Il Village In Porta Venezia In Porta Venezia Che quello è gratuito Poi c'è quella Sesta Invece a Pagoponte Cioè A Villa Litta C'è un piccolissimo Christmas Village Al quale sono andato ieri Oh carino Carino Sì sì Sempre bello Sempre bello Bene bene Beh siamo comunque Finalmente Finalmente Però siamo finalmente In clima natalizio Già il 15 novembre Iniziava il clima natalizio Esatto Abbiamo superato Lo step di Halloween Adesso Questo è lo step definitivo Giustamente Ma adesso ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta così tanto bene Che infatti andiamo Con la canzone di Natale Adesso vabbè Andiamo con una canzone di Natale Soprattutto vabbè Al Oggi è il L'11 dicembre L'8 dicembre Erano Ricorreva appunto L'anniversario della morte Di John Lennon Che ha fatto Questo grandissimo Capolavoro Happy Christmas John Happy Christmas Yoko Losing my religion Con i rem Dal 1991 Grandissima canzone Ti sei perso anche i rem Sì per noi Però me li ascolta molto Here I am 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 vuol dire che sono qua Eh sì Here I am Ma è per quello No non lo so Anche perché Anche perché Anche perché Rem Non si dice Ehi Sì infatti Sbagliato Vabbè Ma comunque Tolto questo Oltre al Mesiversario Di Good Morning Milano Nasce oggi Oggi c'è una triade Incredibile Gianni Morandi Andrea De Carlo E Nino Frassica Nino Frassica Ciao Nino A voi Tra colleghi Sai come è È incredibile Un comico Tutto Adesso ho chiuso Che non ho letto Gli anni Ma saranno tipo 73 Mi pare di aver letto Era Andrea De Carlo Andrea De Carlo 71 Vabbè Sostanzialmente È fermo Da quando è iniziato È del 50 Quindi 73 Ha la stessa comicità Da quando è iniziato Sì Si è mai voluto Non credo Non più di tanto Però fa sempre Ma quanto fa ridere È vero Sì sì Fa le stesse battute Di 30 anni fa Ma fanno sempre ridere Cioè No no Io lo adoro Lo adoro È il nostro È un po' Il mio mentore Da un punto di vista Della comicità Devo dire Lui Cocchi Renato Anche ti occupi Tu ti occupi Tanto Io Delle generazioni Ma frassica Ma frassica È frassica Renzo Arbo È frassica Io delle generazioni successive Tengo Vabbè Frassica Dei mostri sacri E poi Bisio Bisio Ha una capacità Di improvvisare Che devastare Comunque Un po' come la nostra Le sette e mezza Un po' come la sera La prima della scala Ma noi abbiamo parlato Per una settimana Ci va a mattarello Non ci va a mattarello Alla fine Non c'è andato Palcoreale Tutto a posto Eccetera Non facciamo finta di niente Non è passato Cioè è passato sì Però noi non abbiamo ancora parlato E quindi chi siamo noi Per non parlarne Giusto Sapete benissimo però Cosa è successo È successo che Si sta parlando Della prima Alla scala Ancora oggi Perché Perché Prima e dopo L'inno di Mameli È stata È stata È stata pronunciata È stata urlata La frase Viva l'Italia antifascista Questo dopo Prima mi pare Che sia solamente Viva l'Italia antifascista Sì sostanzialmente era quello Viva l'Italia antifascista E poi Perché è tutto il casino Se adesso ci toffano Non sappiamo chi è Se adesso ci toffano Non sappiamo chi è Perché abbiamo detto anche noi E quindi Marco Vizzardelli È stato identificato Collega Perché è giornalista anche lui È stato identificato Poi dalla Digos Appunto Nel corso dell'intervallo Da quello che mi pare Digos Che a detta di Vizzardelli Rideva anch'essa Di questa cosa Cioè nel senso che Ha capito L'assuridità di questa cosa Quindi in realtà La cosa drammatica Non è tanto Che la Digos Loro hanno fatto il loro lavoro Dicevano anche Il sindacato di polizia Non puoi non fare il tuo lavoro Se qualcuno te lo chiede È quello il problema Chi te l'ha chiesto? Non lo so Quello non lo so La domanda è quella Però adesso Che adesso La campagna Principalmente del PD Su No Chi è che lo vuole fare Soprattutto Carlo Monguzzi Cos'ha proposto? Non lo so Non lo sai? Non lo so Ambrogino d'oro Avevo letto Avevo letto No però La campagna che è partita Da Elislein in poi È stata il Viva l'Italia antifascista Elislein Nata il Tot Per sostanzialmente Ribadire il fatto Che Ribadire l'assurdità Dell'identificazione A seguito di questo Io sottolineo solamente una cosa Si identifichi Anche lei Esatto Aggiungo solamente Uno spunto che ha dato Lina Palmerini Che è una giornalista Del Sole 24 Ore Dalla Gruber Che ha detto Siccome Tra le motivazioni C'è il fatto che Si fosse in diretta televisiva E le urla Non vanno bene Eccetera Lei ha detto Io sono andato a rivedere Quello dell'anno scorso Le urla c'erano Quindi il problema Le urla erano Grazie Presidente Perché era la prima Della Scala Con Battarella Al secondo mandato Ok E vi ricordate La grande esaltazione Del pubblico Quindi Lei solleva il tema E quindi Il contenuto O l'urlo in sé Ma sì Ma infatti Diciamo che Come è al solito Viene fatto Il buco E la pezza è peggio Del buco Cioè Questo è il problema È sempre Questo il dramma E comunque Poi ognuno arrivi Alle sue conclusioni Sta di fatto che Insomma Che l'Italia Sia una repubblica Che l'Italia Sia antifascista È un dato di fatto E mi viene da dire Anche per fortuna Però Non credo Che la dico S'abbia identificato Perché adesso Adesso si legge Siamo in uno stato Parafascista Eccetera Questo io non credo Questo Io Cioè Dico la mia C'era una legge Mi pare che poi Siano andati a prendere Nel codice degli anni 30 Questa legge Almeno così si legge Sui giornali Poi magari solamente Per esaltare il fatto Che ci sia il richiamo Fascista Eccetera Quello non si sa Però sostanzialmente È successo questo E noi Ve lo raccontiamo Lo raccontiamo Cosa ne pensate Potete dircelo Al 331 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 Perché comunque qua Nessuno vi scheda Non c'è O meglio Abbiamo un nostro Noi ciò E sappiamo Se ci scrivete Però Nessuno vi chiede Le generalità 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 Grazie 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 Non dovete essere così carini Questi applausi Alle 7 e 42 minuti Per Calcutta Ah non è Per Calcutta Due minuti La canzone di Calcutta Che dura Tre minuti Tre minuti Sì non dura due minuti Vabbè Tre minuti Solo tre minuti Dura tre minuti Sì Vedi Vedi Sono più svizzeri Sono più svizzeri Sono del talento Sono più svizzeri Di Calcutta Calcutta Dice due minuti Poi tre minuti Allora Calcutta Prima l'abbiamo citato Io mi sono fatto Uno scritto Due minuti e cinquanta Sto pensando Se non era Come fare A fare il ritornello Non con un numero Non veniva Sicuramente Era meno musicale Sì infatti Prima l'abbiamo citato Carlo Monguzzi Consigliere d'Europa Verda Consiglio Comunale Di Milano Saluta il collega Monguzzi No ma no E lui aveva mai speaker radiofonico Anche lui No non è vero Non è vero Un post Milano 7 dicembre 1968 L'inizio Di una lunga stagione Di conquiste Sopra La caption O la descrizione Chiamatela come volete Tirammo le uova Alle pellicce Delle ricche Signore borghese Io ero un giovane Adolescente Forse dovremmo Ricominciare Io amo Carlo Monguzzi Solo una cosa Non ci sono più le pellicce Dovete cambiare E col costo Le uova Forse cambierei Guardate i servizi Di tutti i telegiornali Sulla prima scala Con la gente Che entra È difficile Non dare ragione Per me è difficile Non dare ragione A Carlo Monguzzi Non instigare la violenza Del nostro pubblico No 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 Adesso Perché Diciamo Come è che l'avevo Finita un evento Borghese Mondano È inequivocabile Mondano sì Borghese Smi piace che sei solo Forse tu Tu e Monguzzi Sei rimasto A definire Borghese qualcosa Comunque Restando in tema Di ambiente Cosa è successo Poi nel weekend Lo sapete benissimo Springfield Siamo come Springfield Darsene i navigli Colorati di verde Non solo È stata una protesta Diciamo Condivisa e contemporanea Nelle principali città italiane Non solo Roma Venezia Bologna Torino Usano Gli attivisti Usato un colorante innocuo Perché vogliamo denunciare L'ennesimo fallimento politico Della COP28 E dei governi mondiali Ecco Sostanzialmente Nel naviglio grande Nel naviglio grande Si è tinto di verde Mentre una casa di cartapesta È stata fatta affondare Sul ponte Aldamerini Uno striscione Che con scritto Il governo parla La terra affonda Quindi Siamo di fronte A una A una rivendicazione Possiamo dire Di extinction rebellion Che non c'entra Con i vari Ultima generazione No Sono dei cugini Un po' più radicali Diciamo E penso più mondiali Si 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 Sono anche Questa è la sezione A Milano sono molto Radicati Devo dire Sono molto radicati Fanno grandi Grandi attività Si si Ormai eravamo abituati A vedere I blitz Di ultima generazione Queste sono Extension rebellion Esatto Extension rebellion Si Extinction Abbiamo avuti ospiti Anche qua A Milano News Si si Abbiamo avuto loro Perché poi sono anche Scientist rebellion Che è la parte più scientifica D'extinction Extinction Scusa Sono molto ben strutturati Anche Impunto è una rete mondiale Tante associazioni Milanesi Fanno parte Comunque di questa rete Che lotta Da anni Per portare Soprattutto l'attenzione Sul tema del cambiamento climatico Ecco diciamo Velocissimo Per terminare Questo breve blocco Rissa Tra Corsocomo E Stazione Garibaldi Tre denunciati Questo lo leggo Perché C'è sempre Posso dirlo io Non ve l'aveste detto Masieri Lo dice sempre Giustamente Tu lo dici sempre Perché i luoghi sono sempre quelli Corsocomo Ha un problema Gigantesco Gigantesco Molto più che Piazza Duomo Eccetera Corsocomo Il venerdì E sabato sera Voi leggete Sabato mattina E la domenica mattina Le varie testate locali C'è sempre una rissa Comunque Tra ragazzi denunciati Non vi leggo nemmeno I classici scontri Tra bande di ragazzi Diciamo Era solo un Ve l'avevo detto No era un Mi raccomando Attenzione su Corsocomo Che è importante La sicurezza Soprattutto in quella via lì Bruce Princeton Night Shift Alle 7.50 minuti Sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM Ancora per qualche minuto Poi potrebbe essere Che sull'FM Abbiamo dei problemi Ma siamo sempre In streaming invece Siamo sempre in streaming iOS E anche in Tab Plus Nella vostra autoradio Sul sito ci potete ascoltare Giustissimo Sul sito E poi potete rivedere E ascoltare tutto Sul sito di Milano News Esatto In attesa Della rubrica Settimanale Di Filippo Poletti Chiudiamo Questa prima ora insieme Leggendo una dichiarazione Sui Sulla giornata Degli Ambrugini d'Oro Sul 7 dicembre Di Maria Angela Paladino Che se non sbaglio È l'unica Consigliera Di Fratelli Dita Ed è l'unica consigliera In consiglio comunale In quota Noi moderati Se non sbaglio è l'unica Noi moderati Per la prima volta Nella mia vita Mi sono trovata Premiare cittadini milanesi Benemeriti Orgoglio E forte emozione Riconferma di quanto è grande La nostra Milano Ma non nascondo Anche un filo Di tristezza e delusione Per un sindaco Che non ha nemmeno Voluto parlare con loro Non ha fatto nessun discorso In una circostanza In cui stava premiando Proprio la città Quasi a farle uno sgarbo Vuol dire che non ha Proprio nulla da dire Alla sua gente Che non sente O forse non ha mai sentito sua Oddio adesso Devo difendere Sala Mi pesa Mi costa Ma devo dire che però Credo che abbia sempre fatto Cioè è proprio fatta così La cerimonia degli Ambrugini No è proprio fatta così Cioè non c'è un discorso Non ci sono parole A me non piace A me non piace Quella manifestazione fatta così Con queste letture sterili Di cui due poveri ragazzi dietro Presi affrustate Per leggere il comunicato No Non mi piace neanche a me Però è quella Cioè è sempre stato così C'è anche l'anno di Ferragni Non si legge nulla Si apre Presidente Sindaco Presidente del Consiglio Comunale Lì che danno gli Ambrugini Oggi è lunedì Buon lavoro a tutti Ve lo dice anche Filippo Poletti Buon lavoro con il Filippo Poletti Buon lavoro a tutti La prima parola della settimana È Donne in ingegneria Lo scorso 7 dicembre Giovedì Sant'Ambrogio È stato consegnato L'Ambrogino d'oro Ad Amalia Ercole Finzi Fu lei Pensate un po' La prima donna A laurearsi Al Politecnico di Milano In ingegneria aerospaziale E da lei E da lei Una dei massimi esperti In missioni spaziali Arriva un bellissimo insegnamento Le facoltà scientifiche Sono per tutti E dunque No Al gender gap Sui banchi di scuola Così come sui posti di lavoro La seconda parola chiave Della settimana È chimica da Nobel 10 dicembre 1963 Giulio Natta Fu insegnato Del premio Nobel Per la chimica Per gli studi Sui polimeri Stereoscopici lineari Giulio Natta Studiò a Milano Giulio Natta Insegnò a Milano Dunque Ricordiamo Questo premio Nobel Per la chimica L'unico Premio Nobel Per la chimica Italiano Un settore Lo sappiamo bene Strategico Per il nostro Sistema industriale La terza e ultima Parola chiave Della settimana È Gaetano Pini Il nostro Istituto Ortopedico L'Istituto Ortopedico Milanese Compie 150 anni E dunque Noi di buon lavoro Vogliamo unirci A questa festa Sì perché Tanti di noi A partire dal sottoscritto Sono stati curati Al Gaetano Pini E dunque 150 anni Di questa attività Con medici straordinari A due passi Dalla fermata Crocetta Della linea Gialla Buon lavoro A tutti Lunedì 11 dicembre 8 e 10 Ben ritornati Qui a Good Monday Milano Ho avuto un attimo Di pausa lunga Non mi aspettavo Che Blue Monday Vinisse con questa Lunghissima dissolvenza Devo dire la verità Triste Triste Come il Blue Monday Che avviene quando Nel 2024 Devo far finta di non saperlo Non lo so Fabio Io che invece so sempre tutto Lunedì 15 gennaio L'ho appena cercato su Google E' come che stai guardando il telefono Eh sì 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 Stavo guardando che lunedì 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 Aspetta che si è chiuso il telefono Lunedì 15 gennaio È il Blue Monday Ricordiamo è il giorno Più triste dell'anno Così dicono E avviene sempre Ho visto anche C'è tutto un algoritmo Che lo decide Ah camioniano Sì Ovvio Non è sempre lunedì Non può essere sempre lunedì E no ma se è lunedì Allora come fa a essere fisso Se è un lunedì Quest'anno lunedì 15 Cioè come fa a essere fisso Scusa Che sceme Come fa a essere fisso Non è il Natale Che sempre Lo stesso giorno Ragazzi siamo stati tre giorni a casa Sì Grazie alle feste Tu hai mangiato tutti i tre giorni Sicuramente Ieri in maniera particolare In maniera particolare Ieri ho avuto lo stesso menù A pranzo e a cena Ho mangiato le stesse cose E erano tante sia a pranzo che a cena Lasagna al radicchio Buona Bianca? Bianca Buona Mi frega perché va bene Il pomodoro mi facilità Capito? Ma secondo me ai nostri radioscoltatori Non frega niente Niente Se anche voi avete problemi di gastrite 331-78-53555 In nostro numero di Whatsapp Come potete scrivere E seguire tutti coloro che ci hanno scritto Ci hanno dato consigli anche Su cosa hanno fatto No consigli Ci hanno raccontato cosa hanno fatto nel weekend Tanti sono andati alla fiera All'artigiano in fiera Un milione Un milione Un milione all'artigiano in fiera In barba A chi non piace A chi non piace E tu Riferimenti ad altre persone Che sono sedute su queste poltroncine Sono tutte puramente casuali No no Comunque Ritorniamo seri Ringraziamo Filippo Poletti Top Voice di LinkedIn Che come tutti i lunedì Questa volta con una tazza un po' particolare Hai visto Hai visto Gliel'ho regalata io Con una tazza un po' particolare Ci dà le notizie Eh sì Perché abbiamo fatto le tazze Diciamolo a chi non l'ha visto in tv Ma l'ha visto in radio Cioè l'ha ascoltato in radio scusate Abbiamo le tazze di Good Morning Milano Abbiamo le tazze di Good Morning Milano Quante ce ne abbiamo qui sul tavolo? Nemmeno una Sono di là Sono di là impacchettate Perché non le teniamo qua Ha il termos Ha il termos Ha il termos Ma ti dico la verità Volevo farti solo per te Il termos di Good Morning Milano Non stai andando giuro Te lo volevo fare Ma costava troppo E quindi C'era lo sconto sulle tazze Le ho fatte il Black Friday Le ho stampate con il Black Friday Quindi Mi hanno detto Vabbè senti Dieci tazze le posso fare Dieci Poverata Dieci Poverata Buona data a cochi Una da cochi Una a filippo Una a te Sono già rimase solo sette Sono già su vinte Se volete le ultime sette tazze Magari fate un'offerta E magari ve le potremo anche dare Allora Poi bella Arancione Con il logo di Good Morning Milano Non è che ci vuole essere il logo di Radio Popolare Se gratti sotto c'è scritto Quelli della domenica Ce l'ho rubata un'altra trasmissione Comunque Elodie e Annalisa È successo È successo Dopo le voci sul fatto Che ci siano Dopo Federer e Nadal Non lo so Sì Ok Duetto Insieme Perché ne parliamo Perché è successo Al forum Al forum Domanda Io non ho seguito la cosa Ma quanti concerti ha fatto Elodie al forum Io ho un mese Che vedo amici Che postano robe su Instagram Di Elodie al forum Non so cosa dire Continua Non so Non lo so Ti dico Non so Sai quanti Non sappiamo Non sappiamo Ti dico cinque Cinque Ma è un numero buono È un numero buono Il club d'Ogo ne fanno Cinque Tantissimi Tantissimi Già ieri Durante la partita Dell'Olimpia C'era sul maxi schermo Le date Dei club d'Ogo Tutti che Tanto ho visto Che un sacco di miei amici Invece sono andati Al padel International Sì Championship Saluto ad Asia Ferri Che ci ha lavorato Tutto il weekend E niente La tua amica Asia Conosco Conosco Certo Niente Mi sa che è finito adesso È finito È finito È stato un grande successo Oggi sembrava ancora Pepe Nero Stamattina Sembrava ancora Uno strip club Spieghiamo bene Perché l'Alliance Cloud È stato illuminato Con delle luci Viola E Masieri dice Che sembra uno strip club La mattina Quando passo Diciamo che Sembra Uno strip club in chiusura Sai quando è la mattina Che c'è quello Che tira fuori i sacchi Pieni di bottiglie di vetro Chiaramente si scherza Molto meglio così Che anonimo Cioè è molto meglio Con un faro così Con un faro della notte Un faro Faro in piazza stuperic Un faro Un faro in piazza stuperic Oggettivo Il titolo di un film Un faro in piazza stuperic Va bene Va bene Comunque Trovo internazionale Di padel Che ha fatto grande successo I biglietti sold out Sono andati In un attimo Un sacco di miei amici Sono andati Tantissimi Perché non avevo mai giocato A padel Io ci volevo andare Però non sono riuscito A scoccare il biglietto Quindi non ci sono andato Ha chiesto la credito Guarda che vado a recuperare le mail Molto probabilmente Mi hanno anche risposto Ma io non l'ho vista Sai come mi perdo sempre le mail Ma porca mia Ricordatevi che se dovete scrivermi La cosa migliore è 331-78-535-555 Il numero della radio Così sapete che prima o poi Qualcuno lo legge Mi dicevo Fabio ma che ti hanno scritto Esatto C'è Mahmood C'è Mahmood C'è Mahmood C'è Mahmood È arrivato Ce la canta Ce la suona E ci saluta Adesso andiamo con Mahmood Allora clan Insieme a Dario Faini Qui su Cristal Radio Alle 8 e 16 minuti Good morning Milano Chi era? Chi era Mahmood Scusate Sto facendo un training Stamattina Del nostro programma Della radio Ma che gli farei Quelli che stanno a casa Diciamo che sono Grandi novità In quel della squadra Di Good morning Milano Ve lo diremo Nei prossimi giorni Ma abbiamo Una new entry Che ci farà svoltare Assolutamente Voleva far l'uscita Ci fa svoltare Cioè fa il vigile urbano Per quello Ci fa cambiare Ci fa cambiare direzione No no Ma vedrete E sentirete Quante novità Qui su Good morning Milano Assolutamente Spendete la radio adesso Basta Così Non è stato sempre Quando da un atto Così Rivoluzionario Non lo so Cosa sto dicendo Ma infatti Mi è salita Allora ti porto Sulla retta via Portami sulla retta via Sono andato a vedere l'albero di Gucci Sono andato a vedere l'albero di Gucci Allora Ho da dire tante cose Sul l'albero di Gucci Te l'hai segnato No no Perché ho fatto una cosa Che devo leggervi Perché veramente Allora Non voglio entrare Nella polemica Bello o non bello Un milione Sì sì ma non me ne frega niente Questo è un soldo di Gucci Che chi sova come gli spende No non voglio entrare In quella polemica Non ho capito Di cosa è fatto Cioè a me sembrano Voi siete andati a comprare Un piumone Quello da mettere sul letto Ok Quando lo compri Te lo danno dentro Un sacchetto Ed è tutto gonfio Ecco è fatto Di quella roba lì Mi sembra Ci sono i piumoni Che tu hai nell'armadio Neanche sottovuoto Proprio così Belli cicciotti Non ho capito Dovrebbero essere dei bauletti Mi hanno detto A me sembrano delle robe morbide Cioè non ho capito Ma non puoi toccarlo Quindi non puoi capire Se è morbido Ma capito Ma non si capisce Che cos'è Cioè non lo so Sono delle palle squadrate Vabbè Ci sono stati tanti alberi Nella storia Della galleria E di Piazza Duomo Che non si capiva perfettamente Cosa fossero Questo forse li batte tutti Da quel punto di vista Allora Ce n'è un altro In Piazza della Scala Quello di Sephora Fatto di scatoloni Si capisce che sono scatoloni Ma non lo so Cioè di scatole Scatoloni Scusa Di scatole Solo che sono grosse Quindi di scatoloni Ma di scatole Di scatole di Sephora Rigate Va bene Bellissimo Questo qui Non ho capito Di cosa è fatto Ma soprattutto Perché dice Vabbè Non l'ho capito Ma c'è un cartellino Davanti Che dice Adesso mi spiega Cos'è L'albero realizzato da Gucci Con il desiderio Di diffondere un messaggio Di gioia Di bellezza Gucci Illumina Con una speciale installazione La galleria Vittorio Emanuele II Secondo L'albero realizzato da Gucci Simbolo dell'amore In tutte le sue sfumature Diventa l'emblema Di momenti Di condivisione preziosi Così La maison Sceglie di condividere La magia delle feste Con la città Di Milano Come Se fosse Antani Esatto E' una supercazza Una pernacchia Non vuol dire niente Cioè E' questo che mi fa Cazzare a me Che è fatto dai piumoni Stipati nell'armadio Cioè Non si capisce niente Non si capisce niente Ma cosa vuol dire Ma poi soprattutto Perché l'albero E' simbolo dell'amore In tutte le sue sfumature E' bianco Non c'è la sfumatura Vabbè ma Gucci Penso Gucci C'ha Sti piumoni Abbassati Non si capisce niente Costeranno tantissimo Io sono arrivato lì Anzi sono arrivato lì Con la voglia di dire Sapete che c'è milanese Siete sempre i soliti Rompipal Che dite Brutto Bello con gli sbaroschi E fatelo tu l'albero Se vuoi Voglio difendere Gucci Siete indifendibili Siete indifendibili Dopo questa roba Che avete scritto Cosa vuol dire? Oggettivamente Un po' così Cioè Un po' così la spiegazione L'emblema di momenti Di condivisione prezioso Ti invito a trovare Dei comunicati stampa Più materiali di questo No 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 Questa è la verità E comunque Grazie ad Amazon Che sceglie di condividere La magia delle feste Con la città di Milano Condivido Non posso neanche toccarlo Non posso Eh vabbè Cosa devi toccarlo Condividere Condividere se mi da un pezzo E me lo posso portare a casa No Non credo che tu possa prendere un pezzo Eh lo so Ma non è la condivisione No Comunque complimenti a Gucci E come sempre Complimenti Complimenti sempre Sai chi fa i grandi complimenti sempre A Yes Milano Che ne fa sempre Perché c'è il logo di Yes Milano Ovviamente Il nostro ente del turismo milanese Fondamentalmente Quei delle week Sono quelli che fanno le week Che siete i miei acerri I miei nemici Ve lo dico proprio così Spudonatamente No perché siete L'effimera Cioè Neanche la Com'era La leggerezza del numero Madonna Stamattina non mi Vabbè Non so dove dire Voglio dire che non si capisce niente Scrivete in italiano E mi dite L'albero che stai vedendo È fatto di piumoni Perché Gucci fa i piumoni E io sono contento Non è fatto di piumoni Oppure Non Oppure sotto L'albero di Gucci Lo sappiamo Vi piaceva più quello di Swarovski Ma questa non l'abbiamo fatto noi Oh così dovrebbe essere Mi ha vinto la gara Infatti mi ha vinto la gara Pezzenti Tu vorresti Gucci Ma non puoi permetterlo Vai all'OVS Così Cioè così no E invece no Dobbiamo fare tutti quelli Com'è che è? No vabbè Ma è chiarissimo Fabio Io non andrei oltre Va benissimo Simbolo dell'amore In tutte le sue sfumature Allora 331 78 53 555 Diteci Se è stato abbastanza chiaro Fabio L'ho postato anche su Instagram Spero che adesso Arrivi il messaggio del CEO Ho fatto una storia Vi prego Allora CEO di Gucci No Gucci Mi scriva e mi spiega Mi deve spiegare questo testo Facciamo l'analisi Com'era l'analisi Logica L'analisi logica del testo Ok Cioè io ho fatto Allora Questo ho fatto l'alberghiero Io ho fatto l'istituto tecnico Tu hai fatto l'alberghiero Io ho fatto l'istituto tecnico Lui ho fatto la cheesecake Che faceva schifo All'esame di maturità 94 Io manco ho fatto l'esame di maturità Però posso dire che Se lo scrivevo con chat GPT Veniva meglio Guarda io potrei dire una cosa Di una descrizione fatta con chat GPT Ok Un po' così aleatoria A dir poco 5.000 lire il mio fregname Ci faceva anche l'unghia Cioè vabbè Devo dico Elisa Se piovesse il tuo nome Elisa Se piovesse anche delle parole Un po' più senso Magari qua per Gucci Non lo so Ma comunque Sono rimasto sconvolto Questa cosa Andiamo avanti Con la musica Elisa Se piovesse il tuo nome 8 e 31 minuti Anzi 32 in questo istante Ritornati qui Dopo una piccola pausa Dopo Harry Styles Anche quindi siamo qua Di nuovo a parlare di Milano Intanto al 331 7853555 Ci arriva un whatsapp Con una foto del famoso Albero di Gucci Dicendo dai Non è così male Effettivamente però Il simbolo di amore Boh Infatti Però posso dire Foto rubata dall'internet Secondo me quella Sì beh sì Non è stata fatta Da chi ce l'ha mandato Perché è più bello È più bello Di quello che effettivamente Sì 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 Quella foto lì è un po' così Però sembra o no Una catasta di più buoni Mesti nella Ma ti ripeto Non entro nel merito Di se è bello o non è bello Non mi interessa Entro nel merito No entro nel merito Del fatto che mi dai Un cartellino Per mi lasci spiegare qualcosa E scrivi la supercazzola Come se fosse Antani Ma andiamo volta Andiamo volta Sì scusami Scusami Abbiamo fatto un blocco Di sei minuti Scusami Scusami Siamo in collegamento Con Matilde Minella Comitato Bresso No Vasca Buongiorno Matilde Buongiorno Ciao ciao Ormai Ormai la conoscete Se ci ascoltate Perché è già venuta A Cristal Radio Una volta Ospite dei miei Carissimi milanesi Un'altra volta Per parlare Della vasca di laminazione Del Seveso A Bresso A me piace A me piace A me piacerebbe tanto Non sentirla mai più Perché vorrebbe dire Che sarebbe tutto risolto E invece Dobbiamo sempre sentirci Matilde Com'è sta storia Ci sono novità Allora E che le cose Continuano a succedere Sempre più Rapidamente E sono sempre più Surreali Rispetto a quando Ci siamo sentiti E visti La volta scorsa Sono successe Molte cose Miracolosamente Il comune di Milano Ha risposto A una nostra istanza Mediante PEC Controfirmata Dagli assessori Grandi e Granelli Con tutti i dettagli Su quello che sarebbe Successo In merito Alla vasca di laminazione Nelle settimane Diciamo successive Rispetto a quando Noi abbiamo scritto Loro per avere Informazioni E hanno dichiarato Scritto nero su bianco Che entro il 30 novembre Sarebbe stato effettuato Il famoso E tanto atteso Collaudo generale Della vasca Con acqua e del Seveso Specificava L'assessore Granelli Che questo collaudo Sarebbe avvenuto Entro il 30 novembre In ogni caso Che ci fossero Forti precipitazioni O meno Voi vi chiederete Com'è possibile Se non c'è l'acqua Ma ci hanno spiegato Gli ingegneri E c'è scritto In questa risposta Piove insomma Allora noi andiamo In corteo Lungo la vasca Di laminazione Per testimoniare Quello che sarebbe successo Una volta Che fosse entrata L'acqua Arriviamo fino Al quartier generale E la vasca è vuota Piove La vasca è vuota E sul fondo E sul fondo della vasca C'è soltanto Qualche centimetro Di acqua di falda Ma come vuota Arriviamo Ci aspettiamo Un cantiere Prestidiato Da metropolitana Milanese Che ovviamente Deve gestire Le emergenze Per cui quando c'è Un'allerta arancione Meteo Come in quei giorni Ci aspettavamo Un cantiere Completamente Prestidiato E troviamo solo Un guardiano Piuttosto spaesato Che non sapeva Neanche cosa dirci Allora A questo punto Ovviamente Scriviamo Un comunicato Stampa In cui Diciamo Testimoniamo Il fatto Ovviamente Con un tono Critico Che la vasca Non è stata Collaudata La vasca Non ha imbarcato Acque del Seveso E collaudi Che erano stati Prefissati Decisi E scritti In carta bollata Su questa risposta Ufficiale Mediante PEC Degli assessori Grandi Granelli Non è avvenuto E questo è il primo step Ok Il secondo step Il giorno successivo Sulla stampa Tantissime testate Escono Fior fiore Di articoli In cui L'assessore Granelli Dice La vasca È stata Collaudata La vasca È entrata In funzione Un entusiasmo Generale E poi siamo Sconvolti E rispondiamo Con un altro Comunicato Ovviamente Che diffondiamo E poi anche Sul gazzettino Metropolitano Che aveva ospitato La dichiarazione Di la vasca È entrata in funzione Il cantiere è finito La vasca è stata Collaudata Il giorno dopo Esce Il nostro Controcomunicato A dire No la vasca Non è stata Collaudata È cantierizzata Non è entrata In funzione A conferma Di questo Nel ponte Dell'Immacolata Sabato Vi ricordate Che c'era Un giorno Di nebbia Fittissima Qua Soprattutto Nella zona Periferia Di Milano Ci svegliamo Col rumore Delle motoseghe E gli ultimi Quattro maestosi Alberi Di 30 metri Che erano stati Conservati Da progetto Nell'area Cantierizzata Vengono Abbattuti Di nascosto Nel fitto Della nebbia Proprio In sfregio Alla popolazione Definitivo Ecco Questo è un sunto La mia domanda È perché Cioè proprio questo Non ha nulla Di un senso Tutto questo Non capisco Perché Adesso Granelli Cosa ha detto La vostra Controrisposta Tantissime testate Online E giornalistiche Stanno Carta stampata La vasca È in funzione È finito Il problema Delle sondazioni La vasca È stata Collaudata E sconvolgente Perché la vasca È sempre stata Vuota Tranne Un rigagnolo Di acqua di falla Che non c'entra niente Perché viene immessa Con le pompe Che pescano Dai pozzi Non c'entra niente E sarà pur Stata collaudata Nei suoi Componenti funzionali Come dire Hanno provato La pompa X Hanno provato La pompa Y Eccetera Ma non è Stata collaudata In senso generale E prodromico Al suo utilizzo Se un giorno Verrà E succederà Perché è così Una pioggia Torrenziale O la vasca Non verrà utilizzata O verrà utilizzata Senza collaudo Quindi anche Dal punto di vista Della sicurezza Voglio dire Del territorio E dei cittadini Perché Ci ho capito bene Tutto questo Perché Nella prima risposta C'era scritto Che veniva fatto Quel tipo di collaudo Non è che voi Vi aspettavate Un collaudo Diverso da quello Che deve essere fatto Avevamo Noi interlocuito Col comune di Milano Chiedendo dettagli Sul cronoprogramma Dei collaudi E loro Nero su bianco Hanno scritto Che entro il 30 novembre Tassativamente Sarebbe stato fatto Il collaudo generale Con riempimento Della vasca Con acqua del seveso Sia che ci fossero state Delle precipitazioni Significative Sia che invece Il fiume fosse rimasto Non dico in secca Ma quasi E avrebbero quindi Forzato questa magra Del fiume Ma vi dico di più La controprova Dell'assurdità Di tutto questo Mentre un nostro amico Che era a Senago A lavorare Il giorno In cui noi Abbiamo denunciato Tra virgolette Concettualmente Che la vasca Non stava Andando in collaudo Ci ha detto Che il canale scolmatore Che è quello Che viene utilizzato Per deviare In caso di necessità Le acqua del seveso In ticino Non creare problemi Era colmo Quindi la scusa Che potrebbero utilizzare Non c'era abbastanza acqua Non sussiste Perché quell'acqua Che era nel seveso È stata volontariamente Deviata nel ticino Col canale scolmatore Quindi già si era deciso Di non farlo In collaudo Neanche di provarci E secondo voi Per che motivo Cioè sono motivi Di costi Sono motivi Di inadeguatezza Di chi dovrebbe fare Certe cose Non comunicano Tra i loro Gli uffici Mi vengono a dire Non so Vi siete tanti Una risposta Oppure Ci stiamo interrogando E vi dico Che non molliamo Perché questa settimana Prossima mese O nei prossimi giorni Poi andremo di nuovo A bussare al quartier generale A chiedere cosa è successo Però Quello che a noi Sembra Che questa vasca Viene propinata Come pronta Funzionante E invece Non è ancora Del tutto completata C'è ancora qualcosa Che manca evidentemente E che impedisce Di fare questa prova Perché comunque Fatto sta Che l'area è cantierizzata Che la direzione Dei lavori Ci ha detto Che fino a giugno Sarà cantierizzata E quindi sarebbe Veramente anomala Un'opera Che funziona A pieno regime Circondata da un cantiere Cioè non si è mai visto E quindi le cose Cominciano un po' A stridere Quindi il nostro Il nostro sentore È che in realtà Ci sia ancora qualcosa Che manca Che non è stato completato Però ovviamente Da parte del Comune di Milano A nostro parere Ammettere Che nel 2024 Ancora Questa vasca Non entra in funzione Quando su tutti i rendering C'è scritto Luglio 2022 Vasca di Milano Parco Nord Operativa Insomma Due anni di ritardo Non è poco Quando devi giustificare La deforestazione Di 4 ettari E di mettere In funzione Una vasca Che faceva parte Di un sistema Di 4 E rimane così Buttata lì Come un'opera A sé E quindi Un ritardo Così pesante È difficile Da giustificare A nostro parere Ma poi Matilde Oltre Passino Le testate giornalistiche Locali Che danno La notizia De la vasca Entrata in funzione Eccetera Ma i consiglieri Comunque addetti Ai lavori Io ti ho mandato Uno screen Ne ho parlato Anche in radio Marco Mazzei Consigliere comunale In lista Beppe Sala A Milano Scrive Un giorno storico Per Milano Perché da oggi È operativa La vasca di laminazione Eccetera Non è il mose Ma un pochino Ci somiglia Cioè Questo sensazionalismo Per un addetto ai lavori Che sicuramente Sa come stanno le cose Stride un po' Ecco no Ma subito Mi viene a dire Quanto fa male Perché lì invece Eh ma è questo Guarda Perché ti senti Cioè A volte Noi abbiamo la sensazione Di essere pazzi Vi dico Perché noi Che abbiamo proprio Vissuto questa violenza Viviamo tutti i giorni Di avere questo Ecomostro maledetto Sotto casa Cioè È l'unica cosa Che vedo io Dalla mia finestra Dal mio balcone Per cui Cioè Io lo so Se funziona o no Se c'è l'acqua dentro o no Non posso sbagliarmi Tanto più Che quando Poi è successo Il famoso giorno Delle piogge Dell'allerta arancione Abbiamo detto Va bene Noi guardiamo Dal balcone Dalla finestra Ma non ci basta Andiamo in loco Circondiamola tutta la vasca Guardiamo bene dentro Andiamo a parlare Con gli ingegneri Perché noi Non siamo mai Approssimativi Vogliamo sempre essere Lucidi sulle cose E imparziali Cavolo Eravamo in corteo L'abbiamo guardata Era vuota Poi sai che c'è Il salto Della soglia di sfioro Per cui se entra l'acqua Vedi l'acqua che entra Se non entra Non entra Cioè così Era Tra l'altro Il cantiere Non era presidiato Dai tecnici Per cui proprio Era sfitto E infatti A controprova C'era lo scolmatore pieno A dire L'acqua c'è Ma la deviamo in Ticino Perché al momento La vasca non si può usare E quindi È veramente la realtà Dei fatti che parla Neanche noi siamo Diciamo La riverberiamo Verso chi Riceve La voce del comune Di Milano E quindi non può sapere Come stanno veramente Le cose Però è proprio Il dato di fatto Chiarissimo Chiarissimo Diciamo che È molto chiara La vostra richiesta Di lucidità Di sapere meglio Di trasparenza A questo punto Vorrebbe dire Che parlando di acqua È anche abbastanza ridicola Come cosa Sentiamo Adesso anche noi Ci muoveremo Per capire Come mai Appunto Questo collaudo Non è avvenuto Nelle modalità Che erano state dette Nella vostra lettera Risposta Alla vostra lettera Per quello Perché poi Se mi dicono Che hanno provato Le pompe Che funzionano Benissimo Grazie Le avete provate Sono contento Che funzionino Ma capiamo Come mai Non è avvenuto Il collaudo Nelle modalità Che avevano Esplicitato Della risposta Alla vostra richiesta Giusto Questo è il concetto Esatto Perfetto Ci risentiremo Mi spiace per te Ma ci risentiremo Sicuramente Ho questo presentimento Ho questo presentimento Grazie mille Grazie mille Allora al comitato Novasca Grazie mille Buona giornata a tutti Ciao Grazie mille Ancora mattina Allora al comitato Bresso Novasca Andiamo avanti Allora anche noi Con la musica La musica Dei Black Eyed Peas Che ci viene A fare compagnia Qui su Crystal Radio Ricordiamo anche Il numero di Whatsapp 3317853555 Intanto Katia Ci risponde Beh dalla Puglia Sarebbe stato Difficilissimo Infatti Infatti Avevo avuto Il presentimento Ma poi ripeto Era troppo bella Quella foto Per essere vera Troppo bella Per essere vera Andiamo avanti Allora appunto Vi dicevo Black Eyed Peas Simply the Best Qui su Crystal Radio Questa è Good Morning Milano Andiamo avanti Abbiamo ancora un quarto d'ora Da passare insieme Tutte le mattine Simply the Best È tutto quello Quello che ti dico ogni mattina A te Quando ti vedo Ah addirittura Ti dico Ah Lorenzo oggi è il nostro Mesiversario Quindi È vero No l'11 dicembre Siamo in onda Dall'11 settembre Quindi Ottobre, novembre Dicembre Tre mesi Facciamo Ho avuto contatto Con le dita Esatto Scandendo per bene Le parole Si è rotto un polino Devo contare Massimo fino a otto Quattro dita Quattro dita Tutti Non la sai questa cosa? No Quasi tutti Magari dicono una cosa No quella ne ha cinque Ma il 90% Dei fumetti O cartoni animati Hanno quattro dita Non lo sapevo Non so come mai Va bene Prenderò questa informazione Sicuramente Sono sicuro Che non mi tornerà Mai più utile Nella vita Guarda che ti fa svoltare La serata A un cocktail di lavoro A un aperitivo Di quelli importanti Certo Con Assessore Granelli Ad esempio La vasca non funziona Ma lei lo sa Che l'80% Dei fumetti Ha quattro dita No Dubito Dubito Parlerei di molto Altro Comunque Non sei un animale Da cocktail party No Lievito Lievito Non sto scherzando Allora C'è Molto probabilmente Ci sarà in programma Uno sciopero Per il 15 di dicembre Però Al momento Come al solito Non è che Riporta solamente Una testata Non si capisce bene Dovrebbe essere Quello che è stato Posticipato Due settimane fa Perché è troppo vicino A quello ancora precedente Quindi Alcobas Cube trasporti E USB lavoro privato Però Capiremo poi Mano a mano Che ci avviciniamo A venerdì 15 Sicuramente Tanto le fasce di garanzia Saranno sempre quelle Nel caso Poi Aggiornamento Su City Scoot City Scoot Ti ricordi che Chiude Se ne va Sì Un paio di settimane fa Avevamo letto la notizia Che hanno annunciato Praticamente A ridosso della chiusura Sì Annunciato Dopo domani I motorini Non potrebbero prenderli Ci dispiace Darvi una brutta notizia E invece E invece Sono ancora Hanno chiuso Però ci sono ancora Sulle strade di Milano 750 scooter Da ritirare Ok Però hanno chiuso Da 11 giorni Ah benissimo Ok E soprattutto Un dipendente Passapera La Repubblica Milano In 40 Ancora senza ultimo Stipendio E liquidazione Ottimo Come sempre Buone notizie Della mattina Queste ci sono No 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 Ti dico dove Dove ci sono le piste Da pattinaggio Municipio 8 Municipio 9 Municipio 6 Tutti i municipi Hanno uno Ma anche più di uno Sì sì Anche più di uno Era bello anche vedere C'è la mappa Ah Quando vuoi vedere La Dorigucci C'è anche la mappa Degli altri alberi Delle altre luminarie Ed è bello vedere Come sai questa storia Del se fai un albero in centro Devi farne uno anche in periferia È una mezza Roba venuta male Non volevo dire una parolaccia Ma non posso dirla Nel senso che È vero Cioè Uno vale uno Uno vale due In quel caso Perché ogni albero in centro Un albero in periferia Problema qual è Che se abbiamo dieci alberi Adesso non sono di più di dieci Ma dieci alberi In quattro metri quadri Del centro storico Praticamente E poi hai dieci alberi Nei trecentomila metri quadri Della periferia Ho detto Cifra a caso Ma era per farvi rendere l'idea Quindi in realtà Lande desolate In quel caso davvero Cioè C'è un albero ogni Non è una foresta Un alberello Buttato lì ogni tanto Ma sapevamo Che sarebbe stata Un'iniziativa Un'iniziativa più Di Christmas washing L'ho chiamata io Mi piace Dopo il green washing Dopo il rainbow washing Mancava solo Il Christmas washing Comunque Quest'anno Sono un po' Polemico Sul Natale commerciale Che in realtà C'è da sempre Non so come dire Lo spirito natrizio Che non me ne frega Niente a me Però quest'anno Lo voglio difendere Cioè voglio difendere Lo spirito natrizio Non il 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 capitalismo Il capitalismo Il commerciale Basta Cioè il Natale Commerciale Intanto Una delle ultime Canzoni di Ligabue Più belle Più simile Alle prime Che abbia mai fatto Ah Questa è una recensione Di Lorenzo Masieri Ligabue La ragazza dei tuoi sogni